Stavolta ce n'ho di video, un paio di venti minuti quindi, vai. Spaghetti di patate, sembrano molto, non lo so, collosi ma sono buoni, trasparenti quasi. Ok. Surchiatella, ah, rifà, grande, in dolby, in dolby surround, noodle, noodle, dumpling, molto piccanti, perché la salsa è piccante, è molto buona. Ok. Direi cosa che manghi adesso? Grazie.